Buonasera a tutti, è iniziata finalmente, teoricamente, tecnicamente siamo in diretta sui canali Facebook del Comune di Gioia Vicentina, Profumo di Carta e Biblioteca Romano Guardini e sul canale YouTube del Comune di Gioia Vicentina. Dicevo benvenuti a questa prima serata della seconda settimana della quinta edizione di Profumo di Carta. È una serata molto particolare questa perché mentre nella settimana scorsa e fino a ieri eravamo con il pubblico presente nel Salone Nobile di Villa Cerchiari, questa sera le porte del salone sono sbarrate e il pubblico ci segue esclusivamente da casa o dal luogo di lavoro o da dove vi trovate in tutto il mondo. Questa sera abbiamo un ospite molto particolare che è Marta Pozzolo. che dialogherà con Luciano Zampese, professore noto e conoscitore di Luigi Meneghello che è il protagonista del libro di stasera, un intellettuale transnazionale. Luigi Meneghello se ne parlava poco fa, ci sarà un discorso, verrà fuori qualcosa tra Isola e Malio però noi a Isola Vicentina abbiamo Pino Sbalchiero che in qualche maniera con Luigi ha avuto a che fare. E dicevo, è una serata un po' particolare perché siamo stati costretti, faccio un passaggio su questa decisione, siamo stati costretti a limitare alla diretta Facebook gli eventi, il pubblico non può esserci in virtù dell'ultimo DPCM, ci dispiace, ci sembrava brutto buttare il programma, Profondo di Carta è online su Facebook dall'inizio, dalla prima edizione, quindi una buona tradizione che va almeno sulla parte digitale mantenuta e siamo riusciti a farlo. Mi corre obbligo di ringraziare, prima di lasciare la parola a Giuseppe Cantele di Ronzani Editore che peraltro è la casa editrice di questo libro di stasera, ringrazio la regione del Veneto, provincia di Vicenza e Pedemontana, Veneta e Colli per il patrocinio. Ringrazio Calearo Antenne, La Prima Plastics, Site Tools, Monte Grappa, la farmacia Madonna dell'Aiuto di Isola Vicentina, Video Lab, la cooperativa con te per il sostegno, la collaborazione di Galla 1880, Neri Pozza Editore, Newton Compton Editori, Ronzani Editore appunto, Mulino, Mondadori, Garzanti e Di Ciclo, Marsiglio, Longanesi e Manuzio, le rette di biblioteche vicentine e tutti i sostenitori, anche partner tecnici come il giornale di Vicenza e TVA. Era giusto citarli uno per uno. Lascio ora la parola a Beppe Cantele solo dopo aver igienizzato il microfono e poi ci sarà il dialogo. Grazie. Buonasera e grazie anche da parte mia, da parte di tutta la Ronzani Editore, a chi ci sta seguendo. Purtroppo vedere questa sala vuota, per me che sono oramai alla quinta edizione su cinque di partecipazione a questo bel festival Il Profumo di Carta, mi mette un po' di tristezza perché mi fa capire che specialmente per quelle cose che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stesso ritiene non fondamentali si profilano tempi duri. La cultura chissà perché è sempre ritenuta come non fondamentale. Noi invece siamo qui perché la riteniamo assolutamente fondamentale e siamo alla nostra quinta edizione, dicevo. Eppur se la sala è vuota mi dicono da questa regia che ci sono già cento persone collegate in diretta ad ascoltarci. È una cosa meravigliosa e come ogni anno questa manifestazione si conferma partecipatissima perché ci sono ospiti importanti, ci sono temi importanti e si parla di cultura, c'è voglia, c'è bisogno di parlare di cultura. Io seguo per un attimo il filo dei ringraziamenti perché è questo che mi onoro di fare ogni anno anche a nome della Ronzani Editore che è la casa editrice che rappresento. Innanzitutto ringrazio il signor Sindaco che mi ha preceduto nel salutarvi e nel darvi il benvenuto. Ringrazio tutto il Comune, la Giunta e Ettore Dalsanto che dirige, anche se non lo si scrive, come dire, nei cartelloni, dirige questo festival da quando è iniziato. Quindi grazie a tutti loro per questo nostro partneraggio, come si dice, questa partnership che dura appunto da cinque anni e vede la Ronzani Editore coinvolta anche nella grafica della manifestazione. Siamo onoratissimi di essere al fianco loro per tutte queste cose. Poi ringrazio il direttore di questa collana che è l'amico professor Paolo Carta, 8 saggi nell'arco del 2020, di un 2020 funestato dal Covid, sono veramente un lavoro importante. Ecco, non ci siamo mai fermati e non ci siamo mai arresi. Quello di Marta Pozzolo è il settimo saggio. Marta ha lavorato tanto, tantissimo, per tradurre in un libro che io ritengo molto, molto bello, quello che è stato il frutto di molti suoi anni di studio ed è una sua tesi di cui poi lei ci parlerà. Quindi ecco il mio grazie va a lei che ci ha dato questo bel libro. Ringrazio moltissimo e sono felice di poterlo ascoltare questa sera il professor Luciano Zampese, che è davvero la nostra autorità costituita in fatto di Meneghello. Luciano, tienti questi complimenti perché noi ti seguiamo e quindi siamo davvero onorati che tu abbia accettato l'invito di Marta e nostro per chiacchierare con lei di un tema che ci è così caro. Infine ringrazio chi ci ha dato ascolto e chi ha pubblicizzato questa serata, segnatamente il giornale di Vicenza che pure è media partner di questa manifestazione e l'amico Antonio Trentin che è citato in questo libro e che ci ha onorati di un articolo, una recensione molto importante che so che ha reso felice anche Marta, alla quale senza ulteriore indudio passo la parola per iniziare questo dialogo col professor Zampese. Auguro a tutti quelli che ci stanno ascoltando una buona serata. Ci dispiace non avervi qui e non potervi far toccare con mano i libri, ma sappiate che si possono acquistare con pochissimi click dal sito della Ronzani Editore oppure nelle vostre librerie di fiducia in provincia. Buona serata e buon ascolto a tutti. Prego, ancora igienizzazione del microfono, mi ricordano e buona serata e buon ascolto a tutti. Mentre puliscono, igienizzano il microfono possiamo credo anche cominciare. Anch'io mi associo a, mi impressiona il numero di persone coinvolte in questa iniziativa, mi impressiona il numero di persone che si danno da fare anche in questi tempi, per come ricordava prima l'amico di Ronzani Editore, Beppe, per la cultura, che è qualche cosa di importante, gratuito, spesso, si spera, e vorrei dire necessario. Comincio con la parola necessario, e cioè comincio come comincia Marta nel suo libro, premessa, punto, necessità. Emette una citazione, direi coraggiosa, di Luigi Meneghello dalle carte, vi leggo. Non si dovrebbe pubblicare libri che non siano, se non proprio necessari, almeno utili, o come ultima risorsa, belli. E a fianco a questa citazione, un po' io farò da lettore, grosso modo, da lettore, introduttore delle parole di Marta, che sono il cuore della serata, e che sono legate a questo libro, che è il risultato, come si diceva prima, di anni di studio. E quindi saranno parole che entreranno e usciranno dal libro e forse andranno anche nel vissuto, nel vissuto inglese e italiano che ha accompagnato questo lavoro. Dicevo, un'altra citazione, così introduttiva, tratta da un discorso fatto da Meneghello per il premio che aveva preso per la sua opera, Jura, e dice, personalmente sarei portato ad associare il mio lavoro letterario all'idea di un'attività che merita non un premio, ma una punizione. Troverei più soddisfacente il sistema dei premi organizzati se fosse legato a un sistema di pene. Alcuni libri saranno forse da premiare, altri andrebbero certamente puniti. Multe, piccole pene corporali, diffide, squalifiche, per un periodo di qualche anno, nei casi più gravi anche a vita. Sono due citazioni che ci fanno entrare subito nello stile, nella personalità di Luigi Meneghello, l'ironia, l'autoironia e così via. Ora, la domanda iniziale è quasi d'obbligo, quali sono un po' le ragioni di questo libro? Di questo libro che ha un titolo, scherzavamo un po' oggi io e Marta parlandone, che ha un titolo, per così dire, poco menegheliano, nel senso che un intellettuale transnazionale, Meneghello, probabilmente, di fronte a questo, la parola intellettuale, ecco, non gli era simpaticissima, e transnazionale è un'altra parola, insomma, piuttosto pesante. Ovviamente questo è un titolo, potremmo dire, molto tecnico, è un titolo, potremmo dire, anche accademico, ma dentro, nel libro, troveremo anche molta, non accademia, nel senso di passione, nel senso di intensità di scrittura, di concetti, di immagini e così via. Quindi, insomma, le ragioni, magari un po' anche accademiche, se vuoi, ma soprattutto non accademiche, di questo libro. Grazie Luciano, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Le ragioni, appunto, ragioni accademiche, da un lato, perché il libro è un po' il frutto di un percorso di dottorato a Reading, proprio dove insegnava a Meneghello, ma anche un po' perché, diciamo, si inserisce nella scia di quest'ultima tendenza, insomma, della tendenza degli ultimi anni degli studi meneghelliani, di slegare un po' il Meneghello dal locale, dal regionale, e di inserirlo all'interno di un contesto europeo più ampio, insomma. Ragioni personali, perché, diciamo che io mi sono approcciata a Meneghello in un modo un po' forse inusuale, e il primissimo libro intero che io ho letto di Meneghello è stato Il Dispatrio, quindi un libro tardo, un libro pubblicato nel 93, un libro che non era stato molto apprezzato dalla critica, ma forse non era stato compreso a fondo, e io l'ho letto proprio reduce da un mio dispatrio personale in Inghilterra, e mi sono rivista in molte cose, in molte frasi, in molte immagini, nella lingua, e da lì, diciamo, ho poi riletto tutta l'opera di Meneghello, tenendo sempre, insomma, come punto di riferimento Il Dispatrio, e quindi ho riletto Libera Nossa Malo attraverso la lente del suo Dispatrio in Inghilterra, quindi da un punto di vista linguistico, ma anche da un punto di vista tematico, l'antiretorica, ecco, in questo senso, e poi magari faccio un appunto sul transnazionale, che è un po' un parolone accademico, no? È accademico, però, è quello che, diciamo, caratterizza effettivamente Meneghello. Trasnazionale, la definizione vera e propria, diciamo, indica quella serie di legami che l'individuo, ma anche le istituzioni, instaura tra una o più nazioni che vanno oltre i confini geografici. A me piace pensare a un ponte sospeso, no? Che l'individuo in questione può attraversare in base alle sue esigenze linguistiche, culturali, sociali, ed è quello che Meneghello fa alla fine. Meneghello porta l'Italia in Inghilterra e porta l'Inghilterra in Italia. Spiegato davvero in parole molto semplici, ma molto concrete, insomma, che ci fanno capire perché il Meneghello trasnazionale. Forse detto oggi lo diamo un po' per scontato il trasnazionalismo, nel senso sono trasnazionale io che ho vissuto in Inghilterra per molti anni e trasnazionale Luciano che fa avanti e indietro da Ginevra. Nel 1947, quando Meneghello fa le valigie e parte per l'Inghilterra, parte per Reading, quindi, non parte per Londra, parte per Reading, che è le province. Non è così scontato, insomma, prendere e andare e studiare dieci mesi in Inghilterra per poi rimanerci. Alla fine lui voleva anche la missione di Meneghello è una missione trasnazionale inizialmente. Lui dice volevo andarmene per imparare un po' di civiltà moderna e tornare e farne parte ai miei amici e agli italiani. Quindi c'è già l'idea di portare l'Inghilterra in Italia. E quindi sì, noi oggi lo diamo per scontato, però all'epoca non è così scontato, non è assolutamente scontato. E quindi il 1947 anche un po' nella struttura del libro, diciamo, diventa un po' uno spartiacque, un po' un confine tra la prima parte che ha molto poco di trasnazionale la prima parte perché ricostruisco un po' la biografia meneghelliana, non esaustivamente, nel senso che prendo quei tasselli che mi permettono poi di fare un discorso sul meneghello trasnazionale. Però la prima parte dialoga comunque tematicamente parlando con la seconda parte che è quella effettivamente del meneghello trasnazionale, quindi del meneghello che porta un po' d'Italia a Inghilterra ma soprattutto porta Inghilterra in Italia. E quindi questo, diciamo, le motivazioni e la struttura del libro. Ti rilascio la parola. Oggi, così pensando al titolo tuo, sono ritornato un po' sui titoli di meneghello. E così mi è sembrato una cosa che non avevo notato ma che magari forse non ho notato perché è una stupidaggine e l'ho notata oggi è che tranne due tutti i titoli in fondo non sono legati a, diciamo così, o meglio, sono legati a lingue straniere. Libera, no Samara ovviamente in latino. I piccoli maestri deriva da un'espressione francese ma veicolata attraverso l'Inghilterra. Il dispatrio è un titolo di Henry James, quindi di un americano che dopo diventa un inglese, insomma, no? In qualche modo. E poi abbiamo, cosa abbiamo dopo? Fiori italiani. Fiori italiani anche lì è un titolo che nasce in Inghilterra praticamente, no? Nasce in Inghilterra. Restano fuori Pomopero e Bausete, due titoli in dialetto. Ora, tutti gli altri titoli, tolti quelli in dialetto, parlano di educazione perché in fondo Libera Nossa Malo è l'educazione diciamo inavvertita e potentissima dell'infanzia e poi si può andare avanti i fiori italiani è sempre sull'educazione i piccoli maestri ovviamente sull'educazione forse lì sei molto più esperto di me anche il dispatrio è è un'educazione o una rieducazione invece i due titoli in dialetto rappresentano a me sembra due momenti non dico di morte ma quasi di fine pomopero è la fine del mondo di malo ha un carattere molto funebre e Bausete in fondo è la fine di un sogno è la fine degli ideali del partito d'azione eccetera eccetera allora lasciando perdere i titoli in dialetto il tema dell'educazione che idea di scuola aveva Gigi Meneghello insomma Luigi Meneghello ecco perché lui non solo aveva un'idea di scuola ma l'ha fatta l'ha inventata in qualche modo una scuola e cioè l'Italian Studies ecco quindi un po' tema dell'educazione della diseducazione che tu di cui tu parli tantissimo e che scuola aveva in mente Meneghello beh questo è un po' il portare appunto l'Italia in Inghilterra concretamente e Meneghello cosa fa? Meneghello introduce il modello della facoltà di lettere quindi interdisciplinare diciamo all'interno del contesto inglese premessa all'interno dell'università inglese diciamo che prevalevano insegnamenti c'erano pochi insegnamenti di italiano in particolare a Cambridge e a Oxford ed erano prevalentemente incentrati sulla lingua e sulla letteratura italiana e punto Meneghello introduce e poi insomma diciamo che si trova un po' al posto giusto nel momento giusto introduce questo sistema interdisciplinare quindi porta la filosofia porta la storia porta alla storia dell'arte porta al cinema che ancora oggi è diciamo una materia chiave all'interno dell'italianistica anglosassone e diciamo che Meneghello appunto si trova già all'interno di un dipartimento che è il dipartimento di inglese di Reading che in sé è già interdisciplinare nel senso che c'è una figura molto importante all'interno del dipartimento che è Donald Gordon e a cui si deve forse anche un po' la riuscita accademica di Meneghello in qualche modo e già all'interno del dipartimento di inglese c'era questa interdisciplinarietà c'erano questi corsi ausiliari che Meneghello teneva di italianistica poi negli anni sessanta con una riforma universitaria molto importante che è il Robbins Report diciamo che Meneghello si inserisce per riuscire ad espandere il dipartimento di italiano e dandogli proprio lui l'etichetta di Italian Studies che poi è stata insomma a Valanga sono arrivati poi tutti gli altri dipartimenti ed è il modello che c'è tuttora negli studi negli Italian Studies quindi il cinema la letteratura ma anche la storia la filosofia quindi questa interdisciplinarietà tipica della facoltà di lettere diciamo e in questo senso Meneghello è un po' il pioniere degli studi interdisciplinari italiani in Inghilterra ed è stato anche visto come modello forse molto più conosciuto per il suo apporto accademico in Inghilterra che non per il suo apporto letterario in questo senso Meneghello negli anni 60 con il Robbins Report vuole portare l'italiano in grande c'era la possibilità di portare l'italiano in piccolo quindi di rifare un dipartimento tra virgolette normale come quelli di Oxford come quelli di Cambridge basato solo sulla letteratura e sulla lingua Meneghello invece vuole di più lo propone viene accettato e insomma il resto è storia e anche qui vediamo la riuscita insomma il portare l'Italia in Inghilterra ma non del tutto nel senso che appunto l'educazione meneghelliana ricevuta negli anni del fascismo risente insomma fa risentire tutto questo nel senso che Meneghello porta sì l'essenza della facoltà di lettere ma non ne porta la didattica perché Meneghello e lo dice benissimo in un libro che insomma consiglio sempre a tutti che è Fiori italiani la sua educazione che tra l'altro è stato scritto nel 76 ma potrebbe essere stato scritto ieri la sua è stata una diseducazione e lo dice chiaramente la retorica italiana se l'è portata insomma dietro per molti anni anche in Inghilterra e appunto solo in Inghilterra è riuscito a liberarsi di questa retorica e quindi lui si porta il modello della facoltà di lettere ma non ne porta la didattica Meneghello insegna in un modo completamente antidogmatico tanto che insomma parlando anche con i suoi colleghi insomma tutti erano d'accordo sul fatto che Meneghello insegnava con la personalità con la teatralità Meneghello aveva inserito nel nel sillabus nel programma di studi Giuseppe Belli un poeta romanesco che lo può insegnare in Italia ma ha degli studenti inglesi insomma fa un certo effetto quindi ma a lui non interessava lui voleva insegnare quello che piaceva a lui e tutti ho intervistato Giulio Lepski ho intervistato Christopher Wagstaff e tante altre persone tutti erano d'accordo sul fatto che lui avesse un po' ricostruito questa la squadretta dei piccoli maestri in Inghilterra e Reading era diventato davvero un crocevia in quegli anni tutti i migliori accademici italiani passavano per Reading Giulio Lepski Anna Laura Momigliano Lino Pertile Christopher Wagstaff Shirley Vine Zip Maranski davvero potrei andare avanti ore a nominare tutti insomma i grandi italianisti e tutti sono passati per Reading e tutti sono stati selezionati da Meneghello si sono divertiti tantissimo è impressionante le testimonianze che si leggono così nelle lettere nei carteggi privati la gioia di vivere insieme di convivere nello studio a Reading credo che questa sia una delle dei grandi ingredienti della vita di Meneghello che riusciva veramente a condividere prima hai detto qualcosa del tipo si insegna con la personalità che è una frase di appunto di Sir Jeremy Donald Gordon che si insegna con la personalità ed effettivamente o insegni con la passione come dicevi tu insegni quello che ti piace veramente oppure tutto diventa un esaminificio e a questo proposito prendo un po' il tuo libro e cito di Meneghello sulla scuola prima una citazione così per riprendere il tuo accenno al problema del fascismo com'era la scuola sotto il fascismo dice Meneghello due aspetti del nostro schooling non riesco a perdonare il primo è di non aver criticato il fascismo il secondo di non averci insegnato a non accettare passivamente per buone le cose dell'establishment cioè di aver mancato di contenuto civile ecco questo contenuto civile credo sia uno dei fili più importanti che attraversano tutte le attività di cui poi magari parlerai tu di Meneghello perché Meneghello è stato molto non so se dire di più ma molto altro che scrittore non è stato solo scrittore l'hai appena appena detto tu e poi vorrei leggere un altro pezzettino parlavo prima di scuola che valuta scuola uguale valutazione uguale esami sentite qui sempre Meneghello sempre dai fiori italiani che è un libro straordinario forse uno dei più difficili da leggere ma straordinario mi accorgo che non c'è aspetto di questa storia che non tenda a richiamarsi a un esame qui c'entra una caratteristica oggettiva del sistema il modo in cui era congegnato dall'esame di coscienza all'esame di ammissione puerizia da questo all'esame di maturità adolescenza e dall'esame di maturità quello di laurea giovinezza fu tutta una serie di esami a otto anni a dieci a tredici a quindici a diciassette poi all'università il sistema imbizzarriva e pretendeva di esaminarti una mezza dozzina di volte all'anno ecco chi frequenta la scuola anche oggi c'è questa ossessione della valutazione io non so se siamo in ritardo sulla tabella di marcia ma vorrei ricordare una persona che è nata poco dopo Luigi Meneghello nel 24 che pochi insomma sicuramente Marta non si ricorda che è Alberto Manzi Alberto Manzi è famoso per beh è stato uno scrittore ha scritto Orzo Way che forse molti si ricordano come lettura di solito che si fa alle scuole media ma è stato anche beh è stato un maestro un grande maestro un grandissimo maestro ed è famoso per questa trasmissione televisiva non è mai troppo tardi in cui ha insegnato a leggere e a scrivere a novantenni ottantenni è stato uno dei grandi della lotta all'analfabetismo italiano e nell'ottantuno ha avuto uno scontro violentissimo con l'istituzione scolastica era venuto fuori il problema di fare delle valutazioni ai bambini e lui si è rifiutato ha detto io non voglio non voglio fare un giudizio che blocchi l'alunno in una serie di parole fissate così bollato fino in fondo immaginarsi il ministero è andato in tilt ha detto no i giudizi ci vogliono e allora Alberto Manzi si è fatto un timbro un timbro dove c'era scritto fa quello che può quello che non può non fa e timbrava sempre con lo stesso timbro tutti il ministero è andato su tutte le furie e gli ha detto sì d'accordo questo è un giudizio però non va bene il timbro e Alberto Manzi ha detto va bene allora io ve lo scrivo a penna e si è messo a scrivere sempre questo giudizio è stato gli hanno tolto lo stipendio per cinque mesi insomma ne ha passate di tutti i colori ma credo che fosse appunto un altro esempio di personalità di grandi figure di maestri e il tema della maestria è un tema importante in Meneghello allora io ti direi adesso se vuoi vedi tu primo quante cose quante figure diverse è stato Meneghello ma sempre direi con la stessa personalità sempre con lo stesso profondo filo etico morale civile di impegno ecco in tutte queste che scrivesse come giornalista che facesse professore che scrivesse come letterato eccetera eccetera e l'altra cosa ecco quali sono stati i grandi maestri di Luigi Meneghello i nomi ne hai già citato uno no ma insomma ce ne sono ce ne sono anche altri sì parto magari dai maestri Meneghello ha questa cosa dei maestri che un po' lo perseguitano per tutto e fiori italiani ne è una prova maestri la maggior parte non buoni ma anche di molto buoni e il maestro per eccellenza è Giuriolo no colui che converte Meneghello all'antifascismo il maestro senza tessera il maestro della concretezza dell'empirismo della dell'educazione vera dell'educazione ricevuta sul campo in antipiano asiago e e a questo insomma io lo paragono un po' a Gordon nel senso che è un po' la figura rovesciata ma a Gordon anche all'interno del dipartimento d'inglese è questa figura empirica la figura che slega Meneghello dalla retorica sia linguistica ma anche tematica e in questo senso Meneghello insomma sviluppa un po' una tipologia di insegnamento che sta un po' nel mezzo quindi da un lato c'è l'etica di giuriolo e dall'altro c'è l'insegnare con la personalità di Gordon e poi insomma di maestri ce ne sono davvero tanti un altro maestro molto importante è in realtà Carlo Barbieri Carlo Barbieri era il direttore del Veneto il quotidiano di Padova per cui Meneghello aveva lavorato subito dopo aver vinto i lettoriali una persona molto legata al fascismo quindi diciamo che ideologicamente non era affine a Meneghello che già in quegli anni era stato convertito da giuriolo all'antifascismo ma Barbieri è il maestro della pratica del fare il giornale e quindi diverso da tutti gli altri maestri ricevuti negli anni che erano maestri di retorica alla fine dei conti e anche qui Meneghello cerca sempre di slegarsi dalla retorica dall'astratto e il suo apprendistato il suo dispatrio in Inghilterra che è proprio un apprendistato è anche un percorso di slegamento da questi canoni retorici entro i quali lui era stato formato e anche qui insomma poi mi ricollego alla domanda di tutte le facce del Meneghello Meneghello è scrittore ovviamente è traduttore e magari sulla traduzione dico qualcosa più tardi perché mi permette anche qui di parlare di retorica e di antiretorica soprattutto Meneghello è giornalista reporter Meneghello negli anni 50 ed è un lato di Meneghello che non esce spesso questo Meneghello scriveva ha scritto tantissimo per comunità la rivista del dopoguerra di Olivetti interveniva con recensioni per lo più e qui ecco c'è il portare l'Inghilterra in Italia Meneghello si era posto la missione di informare il pubblico italiano senza fronzoli senza orpelli ma di comunicare un'informazione di comunicare delle cose e l'esempio diciamo principale di questo di questa missione civile è il portare dei temi nuovi all'interno del panorama culturale italiano dell'epoca un tema ad esempio come quello dell'olocausto che a Meneghello era un tema molto caro proprio per il legame con la con la moglie Katia che era sopravvissuta ai campi di concentramento Meneghello introduce il tema questo tema in un periodo in cui insomma era ancora un po' delicato c'era del negazionismo si prende anche delle denunce al pudore per delle foto che lui include nei suoi reportage ma che poi diciamo era mi riferisco alla recensione del libro di Reitlinger The Final Solution che lui in tre articoli porta negli anni 50 a comunità i famosi il famoso promemoria che poi raccoglie negli anni 90 e quindi ecco c'è il Meneghello civile in questo senso di portare l'informazione vera concreta senza orpelli e anche qui diciamo che queste recensioni sono un po' un laboratorio anche di scrittura di lingua stessa di Meneghello che si libera piano piano da tutti questi fronzoli e a questo questo proposito c'è una frase di Meneghello che ho fatto anche un po' mia negli anni negli anni del mio apprendistato in Inghilterra è tratta della materia di Reading e ve la leggo è stato in Inghilterra e attraverso la pratica dell'inglese che ho imparato alcune cose essenziali intorno alla prosa in primo luogo che lo scopo della prosa non è principalmente l'ornamento ma è quello di comunicare dei significati questa per me era una novità faceva pugni con l'intera intemperie dell'educazione retorica a cui ero stato esposto ma c'è dell'altro c'era la nozione che l'oscurità non ha un pregio particolare e posso assicurarvi che non era e non è facile convincere un italiano della mia generazione che è così c'era poi l'idea che nelle cose che scriviamo la complessità non necessaria e sospetta e non è affatto invece il prodotto naturale di una mente poderosa ecco diciamo che questo riassume un po' il percorso che Meneghello fa in dispatrio e che Meneghello riesce a fare anche grazie alla traduzione Meneghello è un grande traduttore e Meneghello molte volte dice che proprio stata la pratica della traduzione a un po' sciogliergli la mano il testo c'era già di base e quindi lui non doveva fare altro che trasformarlo quello che gli veniva difficile era creare un testo dal nulla e insomma attraverso la pratica della traduzione che tra l'altro precede esattamente gli anni dell'esordio perché dal 60 al 63 lui tradurrà saggi anche molto importanti sia per Neri Pozzo sia per edizione di comunità quello diventa il vero e proprio laboratorio linguistico e di scrittura di Meneghello sì se posso vi faccio un'altra citazione faccio un'altra citazione da una lettera a Zorzi appunto il direttore della rivista comunità del 1952 dice grosso modo le cose che hai appena citato tu ma le dice appunto nel 52 cioè un'altra cosa che mi ha sempre impressionato di Meneghello è una sorta di coerenza interna coerenza che lo accompagna veramente per tutta la vita lui autoironizza e dice quel famigerato pensarci su continuare a tornare a ricamare sulle stesse cose ma se le stesse cose sono i problemi di fondo della convivenza della libertà della giustizia dell'onestà intellettuale eccetera eccetera ecco è giusto tornarci su allora Zorzi aveva chiesto un giudizio sulla rivista sulla rivista comunità adesso non abbiamo tempo di dire cos'è stata comunità cos'è stato il movimento Olivetti il progetto industriale sociale di Adriano Olivetti sono cose straordinarie e Meneghello allora risponde a Zorzi e dice vorrei limitarmi a due punti a due spunti dice insieme con la documentazione attuale perché non puntare sulla divulgazione storica credo che divulgazione sia un termine importante l'alta divulgazione e lì forse l'Inghilterra ha giocato molto in questa cosa ma siamo nel 52 lui è non dico appena arrivato ma insomma non è lì da una vita ma ha una capacità di assorbimento linguistico innanzitutto e poi culturale veramente straordinario poi dice storia del socialismo dei sindacati dei servizi sociali delle utopie dei partiti politici eccetera eccetera scritta con scrupolo e chiarezza scritta con scrupolo e chiarezza senza pretese di contributi specializzati ma anche senza concessioni alle debolezze di una parte del pubblico gioverebbe forse riattaccarsi proprio ai vari argomenti storpiati di volta in volta dai periodici a rotocalco bandirei i contributi scientifici che fanno camminare gli studi ma non le riviste punterei su un'opera culturale più modesta ma più vasta cercando di informare senza né scoprire né imbonire e va avanti finisco secondo punto salto lo sintetizzo dice non ne faccio una questione di estetica si tratta di farsi capire e soprattutto di non voler dire più di quello che sa da dire ancora un attimo poi ti ti invito ancora a un'altra riflessione ma che hai già anticipato tu Meneghello possiamo dire adesso non ci ascolta ma è un intellettuale è stato un intellettuale nel senso più bello e più alto del termine ma è stato un intellettuale che ha inciso nella realtà che è entrato nella realtà nella realtà accademica l'ha spiegato molto bene Marta prima e quando è avvenuto questo è avvenuto negli anni 50 ora lui scrive un articolo che si intitola negli spaventosi anni 50 e parla così dei suoi amici accademici che sono in Italia e che in quegli anni stanno facendo carriera e sembra invece lui lì in disparte alla periferia della storia che combina poco o nulla mentre sta costruendo quello che sarà e l'hai già detto tu prima una creazione straordinaria gli Italian Studies certo c'è hai detto tu momento giusto uomo giusto il Robinson Report le combinazioni c'erano già mi sembra che l'italiano fosse abbinato a fine arts lo spagnolo al teatro non so cosa del genere però insomma lui ha la molto ingrandita allora cosa fanno gli accademici italiani negli anni 50 cito brevemente parlano allegri di sé e dei loro soci hanno fatto un nido di banditi nella nostra vecchia università assaltano gli istituti e si spartiscono la refurtiva sono veramente affermazioni molto 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 forti Meneghello invece costruisce un progetto educativo straordinario di cui abbiamo già parlato ma ti inviterei ancora a tornare o a sviluppare qualcosa hai già detto sul tema delle traduzioni traduzioni perché certo le traduzioni che hai citato tu sono traduzioni diciamo così di servizio fortemente legate alla cultura ma poi Meneghello si è anche imbarcato in un'impresa particolarissima veramente transnazionale di tradurre dal dialetto cioè scusate dall'inglese in dialetto vicentino i famosi trapianti vuoi così dire qualche cosa su questo beh i trapianti è un'opera secondo me bellissima tra l'altro andrebbe anche forse ristampata se Beppe mi sta sentendo in questo momento magari la Ronzani può ristampare i trapianti che sono introvabili appunto Meneghello ecco lasciamo Rizzoli farà io l'ho buttata lì credo stiano pensando una grande ripresa di tutti i libri di Meneghello proprio in occasione del centenario del 2022 non parlo più sì i trapianti sono secondo me il più alto esempio forse anche il più evidente insomma di transnazionale quindi prendi Shakespeare prendi i classici inglesi e li traduci in dialetto vicentino è in questo senso che è in questo senso che Meneghello fa dialogare le lingue in continuazione ed è tra l'altro in Inghilterra che scopre poi la potenza anche del dialetto è attraverso l'apprendimento della lingua inglese che lui ritorna a capire l'espressività del dialetto perché perché il dialetto appartiene a quella sfera del reale del concreto si apprende si apprende con i tralci prensili dei sensi lui dice si apprende in un contesto parlato a differenza dell'italiano che si impara a scuola l'italiano è astratto e a questo proposito c'è il bellissimo esempio dell'uccellino e dell'oseletto l'uccellino è perfetto l'uccellino entra nei dettati nelle poesie non ha una piuma fuori posto è educato l'oseletto è un po' spennacchiato vola di qua e di là un po' un mascalzone però l'oseletto è vero è l'oseletto che si vede nella realtà e cosa c'entra l'inglese Meneghello quando va in Inghilterra chiaramente un po' di inglese lo sa non avrebbe se no vinto una borsa di studio del British Council sa però un inglese scolastico e l'inglese scolastico insomma tutti sappiamo che non c'entra niente o comunque c'entra ben poco con quello che si parla tutti i giorni nella quotidianità della vita insomma nel paese e in questo senso Meneghello dice che per lui imparare l'inglese è stato un po' come tornare bambini Meneghello lo impara in un contesto quotidiano lo impara in un contesto uditivo e in questo senso l'inglese e il dialetto insomma sono un po' i due piatti della bilancia che l'italiano tiene insieme ecco e quindi i trapianti quindi questa traduzione davvero particolare diciamo riassume questo questo scambio continuo tra lingue questa comunicazione queste barriere che si azzerano completamente in questo caso l'italiano viene completamente bypassato e dall'inglese di Shakespeare si arriva al dialetto vicentino andiamo credo verso a chiudere o chiudiamo già perché ci sono ci sono delle domande faccio io da portavoce proviamo con questo a questo punto poi c'è Claudio Rizzato che saluta anche Beppe e fa i complimenti alla Marta per la proiezione dell'intellettuale vicentino nella dimensione transnazionale c'è una domanda che lascerei dopo da parte di Enrico Oliviero e c'è anche il saluto del neossessore della cultura del comune di Malo che ringrazia l'amministrazione comunale per il prezioso contributo su Luigi Meneghello che è compaesano che ha saputo creare un equilibrio di comunicazione in lingua italiana e dialetto veneto senza uguali ed era maricata e non potrebbe essere qua l'avevamo invitata se ci fosse stata la possibilità di essere presenti però la domanda di Enrico Oliviero di cui parlavo prima dice buonasera in Italia e soprattutto noi veneti abbiamo colto il lato fortemente ironico di Meneghello nel modo accademico dove insegnava questa ironia è stata recepita? Grazie Enrico Oliviero è una bella domanda comunque diciamo che l'ironia meneghelliana viene anche molto dall'ambiente anglosassone è un po' forse mutuata anche sull'ironia british in questo senso non saprei rispondere sinceramente non so se tu Luciano vuoi dire qualcosa al riguardo meno di te nel senso che conosco ancora meno di te quell'ambiente a me sembra che l'ironia sia una componente quasi primigenia di Meneghello certo che poi ha trovato come si può dire terreno fertilissimo in Inghilterra però sì non è una vera e propria risposta insomma sono quelle domande che sono più più belle domande delle risposte ed è un piacere tenersi la domanda perché in fondo illumina una zona ancora poco chiara ecco non so se ci sono altre domande o se abbiamo ancora tempo o se dobbiamo fermarci qui perché io vorrei hai parlato di dialetto inglese e così via vorrei fare almeno una citazione da Libera Nosso perché che è sarà anche una banalità ma è è il capolavoro insomma è un testo veramente straordinario a un certo punto siamo più o meno a metà c'è una specie di decalogo di decalogo dove al punto quattro il quarto comandamento recita sii pulita la donna onta non merita stima e poi commenta nella vecchia generazione quasi l'unica critica che si faceva alle donne era contro quelle che non erano pulite non nette che vuol dire pulite nella persona ma pulite ossia brave a tenere la casa in ordine netta i bambini lavati i vestiti ben rammendati e rattoppati con cura onta vuol dire insomma untidy nei casi gravissimi e mio padre dice tuttora che una donna era un luamaro che vuol dire most untidy ecco ci sono esempi ancora più chiari più limpidi maredè maredè ma mi pare interessante questa idea che tutte le lingue ci servono per tradurre la nostra prima lingua la nostra prima lingua la lingua materna per eccellenza che per la generazione di meneghello e ancora per la mia generazione era il dialetto la possiamo poi ritrovare nelle altre lingue nelle altre lingue del mondo e mi piace molto ne parli anche tu nel libro questa idea di possibilità di una seconda infanzia ogni volta che noi impariamo un'altra lingua ecco poter tornare bambini almeno linguisticamente bambini girando il mondo e incontrando per la prima volta la realtà con altre parole con quell'imprinting così forte che è quello che ci aveva dato il dialetto poi io andrei a osservare non so se un'ultima cosa vediamo quanto tempo abbiamo sempre su questa idea di transnazionalità su questa idea di un personaggio che è nato e vissuto e cresciuto in un piccolismo piccolo paese dell'Alto Vicentino a che poi insomma ha girato il mondo no soprattutto come dicevi tu in anni dove girare il mondo era una scelta piuttosto complessa insomma bene allora alla fine di un articolo molto bello del 63 una recensione a Liberanos di Paolo Milano è un un articolo che Meneghello amava molto Paolo Milano dice Liberanos anzi si può leggere anche di più un attimo di più per queste vie il periplo di Meneghello si chiude egli che si era allontanato dal suo paese per capirlo ora gli si riavvicina per suggellare il distacco Liberanos Amalo segna una maturità nella nostra giovane letteratura che definirei così quest'opera d'esordio la più radicata in un angolo di provincia è insieme spontaneamente europea ecco mi pare una bellissima idea che Paolo Milano coglie già pochi mesi poche settimane dopo l'uscita di Liberanos tra l'altro tornando un po' al tuo incontro con Meneghello Paolo Milano è uno che suggerisce probabilmente questo termine dispatrio preso da Harry James ma direi che questa è una delle idee che dovrebbero così guidarci cioè questa capacità di mantenere l'identità originaria di mantenere la lingua materna di mantenere i luoghi materni la patria il patriottismo dovrebbe essere materno cioè dovrebbe curare i luoghi voler bene ai luoghi innanzitutto la terra la terra il proprio paese no? non farci abusi edilizi non inquinarlo insomma questo dovrebbe essere il patriottismo materno che cura che fa crescere che fa nascere ecco ma questo patriottismo non è contro qualcuno non è nazionalismo c'era una persona molto famosa che aveva detto sono troppo patriottismo amo troppo la mia patria per essere nazionalista ecco quindi una fortissima capacità di riconoscere le proprie radici ottenuta anche o soprattutto grazie al fatto che ci si è staccati da queste radici ecco allora vedi tu ma a me sembra che la tua esperienza la tua esperienza sia preziosa cioè lo dico un po' così in maniera molto banale non sei una foresta sei una che è nata è nata qui che si è trappiantata a Reading e che anche tu hai saputo almeno per quel che ti conosco io insomma farti portavoce dell'intelligenza e della passione di qui e di là ma mescolando un po' le carte ecco quindi vedi tu un po' se agganciarti a questo o chiudere penso adesso io non so bene l'ora ma penso che ci siamo eh di chiudere con le ultime parole che non necessariamente devono essere parole ad effetto ecco vabbè sì se posso dire insomma mi rivedo anch'io un po' in meneghello sento questa questa doppia appartenenza alla fine ed è anche difficile devo dire conviverci con questa doppia appartenenza perché quando sono in Italia mi manca l'Inghilterra quando sono in Inghilterra mi manca l'Italia e sì tu parlavi di bipolarismo oggi pomeriggio quando ci siamo sentiti diciamo che ti porta a diventare bipolare una situazione così però è anche bello quello che dici che dice anche Meneghello insomma della ricostruzione di una nuova identità ogni volta che si impara una lingua o che si vive in un paese diverso e questo insomma forse è fondamentale proprio anche al giorno d'oggi insomma ed è una cosa a cui tengo molto il fatto di essere italiana ma anche un po' inglese è un po' come era Meneghello non c'è la preferenza insomma no c'è questo continuo andare venire la formazione di una coscienza proprio trasnazionale se vogliamo una coscienza italiana una coscienza inglese e chiudo insomma grazie grazie a tutti grazie a Luciano grazie a Beppe grazie a tutti gli organizzatori grazie e vedo arrivare il sindaco a chiudere c'è anche l'applauso c'è anche l'applauso spero che ci sia anche l'audio ma sono attrezzato ha fatto qualcosa ai tecnici ci sono anche tre tuoi compagni di classe cara Marta adesso li trovo perché sto qua seguendo tutti quanti tre compagni di classe del liceo Andrea Alessandro e Davide li saluto ecco bene e tanti altri che hanno seguito con noi le sedie erano libere però da casa ci hanno seguito in circa una sessantina che salutiamo e ringraziamo ancora per aver essere stati con noi ora è il momento dei doni per ciascuno anche tutti ti vanno in diretta quindi mi raccomando ci sono allora l'elisir di China delle farmacie Madonna dell'Aiuto grazie sicuramente deve averlo bevuto anche Luigi Menevello molto probabile con una copia del libro di una ristampa spero che Beppe non mi non mi andrà ma dovrebbe essere una ristampa di c'era una volta un'isola in occasione del novantesimo anniversario della nascita di Dino Sbalchieri e con il glossario del contatto isolano e poi invece per lo scrittore la scrittrice questa sera c'è un particolare dono da parte di Monte Grappa lo sponsor tecnico più particolare e prestigioso del mio quest'anno insieme agli altri c'è una penna con le tue iniziali un'altra di cui forgo dono e ora ci sarebbe c'è l'obbligo dello scatto a favore di quindi facciamo dopo facciamo dopo bene io non so se stanno sentendo da casa ma si stanno sentendo quindi ringrazio tutti per averci seguito e domani sera abbiamo l'appuntamento con Marco Cavalli e il suo Dante clandestino un po' in anticipo ma precursore dell'anno prossimo dei 700 anni delle morte di di Dante Alighieri in anteprima mi dicono dalle regie ringrazio oltre che aiuto che Marta e il professor Santese ringrazio anche la regia che è stata stavo dicendo magistralmente ma ci ho ripensato è stata condotta da il vice sindaco l'assessore Nicola Scazzola e da l'assessore della cultura Francesco Castagna grazie anche a loro se questa diretta è stata possibile buona serata a tutti buonanotte a domani siamo ancora chiudete